È in corso in questi giorni in Regione il Comitato di Sorveglianza per i programmi che raccolgono i fondi europei. Durante il Comitato di oggi è stato messa a verbale che la Regione Abruzzo sta facendo un ottimo lavoro in relazione alla programmazione, confermando che entro i primi mesi del 2023 la stessa Regione avrà completato la spesa al 100% dei fondi europei. Una risposta al centro-sinistra, questa da parte del Governatore Marco Marsilio dopo le polemiche dei giorni scorsi. Per il programma FSE la quota di fondi europei è di poco meno di 70 milioni. La Regione ad oggi ha speso l'89% dei fondi assegnati e stima di completare la spesa. Già nei primi mesi del nuovo anno per il FESR si è reggiamente più ribasso ma con prospettive analoghe. Su 137 milioni di quota più di 102 sono stati spesi. La Regione quindi spende il 100% dei fondi europei, ha specificato Marsilio. Vengono smentite le solide voci e i solidi luoghi comuni sul fatto che qualcuno non sarebbe capace di spendere fondi europei. In realtà noi già alla fine di questo anno avremo speso il 95% della dotazione europea sul fondo sociale, il 75% oltre il 75% sul fondo di sviluppo regionale con previsione di completamento della spesa entro i primi mesi del 2023, quindi anche con qualche mese di anticipo rispetto alla scadenza del 31 dicembre e con alcune missioni, alcune linee di azione, addirittura in overbooking, cioè con oltre il 100% della spesa rispetto ai fondi assegnati. Entro due settimane poi la Commissione darà approvazione definitiva dei nuovi programmi. Ci sarà una crescita enorme della dotazione finanziaria da 138 milioni del fondo sociale a 406 e 681 per il fondo di sviluppo regionale arrivando a un miliardo. Ho un po' reclamato sul fatto che una programmazione che nominalmente inizia dal 2021 alla fine del 2022 ancora stiamo attendendo dall'Europa l'autorizzazione, non riguarda solo l'Abruzzo, riguarda tutte le regioni italiane, l'autorizzazione a partire. Ho chiesto di fare magari, di perdere un po' meno tempo nel scrivere programmi perfettissimi, con tutte le virgole a posto e di partire però prima perché tenere fermi i soldi in un periodo di crisi è addirittura delittuoso.